Noi siamo stati creati per amare ed essere amati. Dio, che è amore, ci ha creati per renderci partecipi della sua vita, per essere amati da Lui e per amarlo, e per amare con Lui tutte le altre persone. Questo è il sogno di Dio per l'uomo, e per realizzarlo abbiamo bisogno della sua grazia. Abbiamo bisogno di ricevere in noi la capacità di amare che proviene da Dio stesso, e Gesù si offre a noi nell'Eucaristia proprio per questo.